Buongiorno bambini, come state? Tutto bene? Siamo già arrivati a giovedì ed oggi è il giorno della storia. Oggi voglio raccontarvi una storia molto buffa che parla della famiglia all'incontrario. Chissà cosa vorrà dire famiglia all'incontrario? Siete pronti ad ascoltarla? Allora, orecchie aperte, occhi spalancati, bocca chiusa, comodi sul divano, al tavolo, davanti al video, ed ascoltiamo. Pronti? Attenti? Via! C'era una volta la famiglia all'incontrario. Il papà, la mamma e i due bambini che si chiamavano Pasticcio e Confusione. La famiglia all'incontrario si svegliava sempre a mezzanotte. Tutti si mettevano in pigiama e andavano a cenare. Il papà diceva, brava bambina, mentre Confusione lanciava in aria le salsicce. Pasticcio, smettila di mangiare con la forchetta, diceva la mamma. Lo sai che serve per pettinarsi? Per favore, usa le dita delle mani e dei piedi. Mi passi la marmellata, Confusione? chiedeva il papà. E Confusione infilava le dita nel barattolo e gli lanciava la marmellata in testa. Oh, grazie tesoro mio! Mi passi la panna montata, Pasticcio? chiedeva la mamma. E Pasticcio le tirava una cucchiaiata di panna montata in faccia. Finito di cenare, i bambini andavano a scuola e poi al parco. Più tardi, genitori e bambini suonavano insieme e guardavano la tv. Alla fine facevano colazione, si lavavano e andavano a letto. Ogni notte e ogni giorno, la famiglia all'incontrario faceva sempre le stesse cose. Un pomeriggio furono svegliati da qualcuno che bussava alla porta. Che può essere a quest'ora del giorno? Oh, sbadigliò la mamma. Era la vicina, la signora Ciambella. Oh, cara, stavo uscendo? No, perché dovrei uscire con il cappotto? Mi dispiace disturbarla, disse la vicina. Ma ho un impegno. Potreste venire da me e dare un'occhiata a Lucia? È un vero angioletto, la mia bambina. La signora, all'incontrario, aveva sonno, ma le piaceva aiutare gli altri. Certo, disse. Ci spogliamo in un attimo. Non appena furono tutti pronti, andarono a casa della signora Ciambella. Che famiglia strana è questa? Mamma, perché la signora Ciambella si mette i vestiti per uscire? Chiese confusione. Eh, le persone non sono tutte uguali. Poi, guardando la casa, spalancarono gli occhi. Tutto era in perfetto ordine. Povera signora Ciambella, disse la signora all'incontrario. Mettiamola in disordino alla casa. Si misero subito al lavoro. Fecero una gran barahonda. Disfecero i letti e sporcarono un po' in giro. Così va meglio, esclamò il papà. Lucia stava disegnando. Attenta, non mettetti il grembiule, altrimenti lo sporcherà di pittura, le disse la signora all'incontrario. E poi, non sulla carta, fa il disegno sul muro. Non è disubbidiente, surrò confusione alla mamma. Eh, non tutti possono comportarsi bene come te, tesoro. Abbiamo fame, dissero i bambini. La mamma diede un'occhiata all'orologio. Erano già le cinque. In effetti è ora di colazione, disse. Cerchiamo la camera dal letto. Impiegarono molto tempo a trovare dove la signora confusione teneva il cibo. Che strana casa, borbottò il papà. È buffo mangiare in cucina, disse confusione. La colazione l'ho messa sotto la tavola, chiamò la mamma. Non dimenticatevi di levarvi i piedi per bene. Cosa c'è di dolce? Chiese confusione. I pomodori. Evviva, evviva. Ma niente pomodori, finché non è finita la torta. Devo mangiarla proprio tutta, mamma. Sì. Improvvisamente si sentì un rumore alla finestra. Era un ladro. Urrà, abbiamo visite, gridò confusione. Finalmente una persona normale. Chi è che entra dalla finestra? Normalmente entrano tutti dalla porta. Accogliamo bene il nostro ospite, disse la mamma. La prego, mangi qualcosa, disse papà, tirando i pomodori contro il ladro. Prenda un po' di torta, disse pasticcio lasciando gli avanzi. Ne prenda un po' della mia e anche della mia, disse Lucia, che stava iniziando a divertirsi. Il ladro spaventato scappò più in fretta che poté. Perché sta correndo? Chiesero i bambini. Non lo so, risposero in coro mamma e papà. In quel momento la signora Ciambella entrò di corsa in cucina. Va tutto bene? Domandò. Ho appena visto uscire un ladro dalla finestra. Va tutto benissimo, disse il signor all'incontrario. Avete cacciato un ladro, esclamò la signora Ciambella. Grazie infinite. Mamma mia, che confusione ha fatto però. Quale confusione? Domandò la signora all'incontrario. La famiglia all'incontrario salutò e tornò a casa. Certo che la signora Ciambella avrebbe potuto anche ringraziare, disse Confusione. Non importa, disse il papà, il mondo è bello perché è vario. Avete sentito, Buffa, questa storia? Erano un po' strampalati, eh? Però con il loro modo di essere sono riusciti a fare scappare il ladro dalla casa. Allora, se vi è piaciuta la potete riascoltare e potete fare anche un disegno della parte della storia che vi è piaciuta di più. Se vi è piaciuta di più la prima parte quando i bambini si lanciano e lanciano tutto il mangiare. Se vi è piaciuta di più quando buttano all'aria tutta la casa, quando mangiano sotto il tavolo o quando fanno scappare il ladro. Bene, bambini? Allora, ci vediamo domani. Un altro super bacio, un altro super abbraccio stretto stretto e oggi aggiungo anche un cuore. Ciao, bimbi!